La giustizia tributaria in Abruzzo ha funzionato bene soprattutto nell'ultimo anno, abbattendo l'arretrato del 10% è uno dei punti importanti tracciati nella relazione del presidente Gian Saverio Cappa in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. La giustizia tributaria ha assunto un'importanza sempre più grande negli anni, una magistratura qualificata che riesce a decidere un numero di controversie superiore a quelle di nuova iscrizione. Il tempo medio inoltre di definizione del doppio grado del giudizio di merito è mediamente contenuto entro il periodo di due anni e sul tema della lotta all'evasione fiscale e le attività di recupero svolte dalla finanza e dall'agenzia delle entrate hanno comportato un notevole recupero di imposte sottratte allo Stato. Per la giustizia tributaria, specie quella abruzzese, nell'ultimo anno le cose sono andate bene. Siamo riusciti ad abbattere l'arretrato in misura superiore al 10% e questo era uno degli obiettivi che noi c'eravamo prefissati l'anno prima. Ed è anzi un trend che perdura nel tempo perché negli ultimi cinque anni si è sempre riuscito a conseguire questo obiettivo, tranne che per il 2020 dove c'è stato l'effetto del Covid, il Covid ha impedito la celebrazione di molte udienze e quindi non potendosi celebrare le udienze, ovviamente sono state fatte meno sentenze, però negli anni successivi si è recuperato. Le criticità sono sempre le stesse, soprattutto riguardanti l'organico dei giudici. Nonostante questo nel corso del 2022 la Corte di secondo grado ha deciso 691 ricorsi a fronte dei 643 sopravvenuti. Tra il 2018 e il 2022 sono state emesse 4.775 sentenze e annullate con rinvio della Cassazione 222 sentenze. Le criticità sono rappresentate sicuramente dall'aspetto logistico, dall'aspetto del numero dei giudici, gli organici non sono completi, manca sempre qualche cosa e bisogna sempre darsi da fare per superare queste difficoltà.